Forza che riprendiamo, talloni uniti, fate un passo indietro, poi andate sulla punta del piede piegando il ginocchio dalla gamba che avete dietro, destra, sinistra, indifferente, calcolate di avere il ginocchio a metà del polpaccio dalla gamba avanti come misura e leggermente all'interno, dalla parte che avete il ginocchio sollevato sollevate il palmo della mano destra in avanti a questo modo mantenendo una spinta e dalla parte bassa che avete la gamba indietro sollevate quello opposto tenendolo più basso, la gamba dietro deve essere piegata non diritta. Sì, così, perfetto, un po' più avanti, allunga un po' il passo indietro, sì, il peso del corpo al centro, mantenete una spinta col palmo della mano avanti mantenete il peso al centro, né tutto sulla gamba avanti né tutto sulla gamba dietro spinta rilassate il gomito, non tenete l'esterno perché irrigidita la spalla e non va bene perfetto, spinta un po' più piegata la vostra gamba spinta spinta Pesano in centro, lungo un po' il passo il passo in giro si, tallone sollevato tallone sollevato, tallone sollevato indice pollice sempre aperti, mattina spinta in avanti attenzione nel palmo delle mani, spinta in avanti si, bellissimo anche questo adesso o questo si avanti finta si, tallone sollevato si, tallone sollevato non ratrezzate la gamba dietro perché si inarca la schiena e non va bene giù il ginocchio salve si, tallone sollevato qui si, tallone sollevato si, tallone sollevato pui